buona giornata amici da massimo foghetti oggi è sabato 7 gennaio 2023 questa è la rassegna stampa iniziamo così la giornata dando un'occhiata ai giornali ieri era una bella festa la befana è arrivato un po in tutte le località per la gioia dei bambini ma anche per coagulare per tenere insieme le famiglie questa è stata una bella impresa ma noi cominciamo come al solito la nostra trasmissione con l'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia san raimondo de pennonfort dodicesimo secolo pennonfort è una località della catalogna sacerdote dell'ordine dei predicatori fondato da san domenico di cui poi divenne generale fu confessore del re di aragona e a lui si attribuiscono molti miracoli morì nella veneranda età di 100 anni san raimondo di pennonfort vediamo anche le previsioni del tempo ieri una giornata di nebbia una nebbia che però si è alzata durante la giornata facendo apparire un cielo terzo che poi vedremo è stata la cornice ideale delle feste della befana oggi sulle marche una giornata stabile il cielo è molto nuvoloso con foschie nebbie nebbie sulle coste tra pesaro e ancona le massime le temperature massime arriveranno fino ai 12 gradi anche qualcosina di più e le minime si attesteranno a 9 gradi i venti ispireranno deboli sulle coste da sud e nell'interno da nord oste e le temperature sono sempre in calo diamo un po verso il cuore dell'inverno quindi dovremo avere delle giornate più fredde ma vedremo perché fino ad oggi non si è verificato e allora apriamo i giornali sulla pagina del corriere adriatico per quanto riguarda fano vediamo subito il titolo di apertura sia al monastero dei frati trappisti nove anni per avviare la variante è una notizia che viene pubblicata anche dal resto del carlino vediamo qui il titolo frati trappisti ok alla variante per il monastero si sblocca una situazione ferma da quasi dieci anni dal 2014 quando il comune di fano arrivò a un'istanza dei frati trappisti di frattocchi e frattocchi è una località in nel comune di marino a 20 chilometri da roma ebbene qui insomma la vita monastica cominciava a essere inquinata dalla vita un po frenetica di tutti i giorni e i frati desiderosi di vivere in preghiera e in un luogo appartato hanno individuato proprio nel colle di monte giove anzi diciamo meglio al prelato che è il colle vicino a quello di monte giove una località idonea per erigere un nuovo monastero e così hanno fatto istanza al comune di fano per costruire questo grande edificio e beh insomma all'inizio c'è stato un po di perplessità insomma costruire un nuovo complesso in una zona ambientalmente tutelata come quella del prelato insomma ha fatto storcere la bocca a qualcuno però il luogo dobbiamo dire si presta al romitaggio al romitaggio soprattutto dei religiosi lì vicino c'è l'eremo di monte giove c'è anche la casa del prelato insomma di di competenza diocesana e quindi è un luogo già improntato alla spiritualità e l'amministrazione comunale cosa ha fatto dopo dopo circa dieci anni ha espresso un titolo di indirizzo nel frattempo però comunque qualcosa si era mosso per esempio era stato acquisito un parere favorevole da parte della soprintendenza cosa importantissima per poter avviare il progetto ebbene in questi giorni è stata approvata una delibera di giunta in cui c'è una presa di posizione di indirizzo e si dà compito all'ufficio urbanistica di predisporre la variante ovviamente lì è una zona agricola e quindi per essere una zona di carattere edilizio occorre una variante perché poi venga portata all'approvazione del consiglio comunale. I fratti trappisti sono un ordine di carattere monastico e di grande tradizione e di grande peso culturale religioso e anche politico nel corso della storia. Vediamo alle altre notizie continuiamo sul Corriere Adriatico c'è una notizia di cronaca a fondo pagina vanno fuori strada e lasciano l'auto nel campo una coppia di Mondolfo è stata rintracciata dopo il recupero del mezzo un'automobile fuori strada è stata trovata lungo la provinciale di San Costanzo ieri intorno a luna di notte a Tombaccia di Fano la conducente una giovane donna residente a Mondolfo è stata rintracciata circa 12 ore dopo l'incidente dalla parte della polizia locale che per le sue ricerche ha utilizzato il numero di targa quando la pattuglia è arrivata sul luogo dell'incidente nelle vicinanze di una centralina dell'Ase ha trovato una vettura ai piedi di una scarpatella dove era finita dopo essere dopo essersi rovesciata ma nessuno che potesse spiegare quanto era accaduto ecco perché poi sono avviate tutte le ricerche per individuare chi erano i proprietari gli occupanti di questa automobile che probabilmente ha fatto tutto da sola quindi si è rovesciata a margine della strada. Una apertura nella seconda pagina del Corriere Adriatico riguarda la Pinacoteca di Fano. Il nuovo assessore alla cultura Corra Fattori aveva presentato un progetto per quanto riguarda l'accessibilità ai disabili quindi l'abbattimento delle barriere architettoniche anche per il museo malatestiano dove è allocata la Pinacoteca civica. C'è quella scalinata di carattere malatestiano che fa accedere ai piani superiori dell'edificio che difficilmente è praticabile da parte dei disabili e quindi questo progetto è un progetto consistente che prevede un investimento stimato in 3 milioni e mezzo per abbattere tutte le barriere architettoniche cognitive e sensoriali prevede l'installazione di ascensori e poi di altre opportune tecnologie che possono facilitare l'ingresso delle persone in modo che tutti possono veramente usufruire dei beni culturali della città di Fano. Questo progetto è stato presentato allo Stato, al Governo per i finanziamenti, è arrivato al 35esimo posto, purtroppo sono stati finanziati solo 5 progetti di questo genere e quindi è stato posto in attesa di ulteriori contributi e speriamo che questi arrivano. E poi non poteva mancare l'articolo sulla Befana. Il trionfo della Befana dal cielo alla piazza centrale. Ieri sono stati tre i momenti topici dell'arrivo della Befana nella città di Fano. Il primo nell'aeroporto dove la Befana è scesa dal cielo appesa ad un paracadute. La vediamo qui nel momento in cui sta per atterrare nella superficie erbosa dell'aeroporto di Fano con il suo carico di dolciumi. È stato un bello spettacolo. Dopo due anni il pubblico ha potuto tornare all'aeroporto di Fano e vedere assistere, partecipare a questa bella manifestazione con tutti i bambini. L'accoglienza è stata fatta con una bella tazza di cioccolato caldo. Poi ci sono stati degli spettacoli. Si sono esibiti il Fly Fun Team con tre velivoli che hanno sorvalato più volte la pista in formazione. Poi anche i due velivoli della patuglia acrobatica IAC Italia che hanno segnato spettacolarmente la loro traiettoria con dei fumogini. E poi il pubblico è stato trattenuto anche da delle piccole atlete, quelle che fanno parte dell'Associazione Vivamente di Cucurano, i quali praticano il cheerleading. È uno sport brillante che combina elementi di ginnastica ritmica, acrobatica, danza moderno e coreografia. Invita bambini a lavorare in gruppo. Quindi è una pratica sportiva di carattere fisico ma anche di carattere intellettuale. E poi ci sono vestite da Befana. Ci sono esibiti anche i ragazzi della scuola di Kung Fu Yanglong. E alla fine sono piovute dal cielo le Befane dei paracadutisti del Fano Sky Team che hanno concluso la festa distribuendo dolciumi a tutti i bambini. La seconda Befana è arrivata dal primo pomeriggio a Tre Ponti, da dove un po' la festa delle Befana si è sempre coltivata fino a farla diventare un evento cittadino in piazza 20 Settembre. E ieri a Tre Ponti si è svolta la tradizionale tombola, una tombola molto molto partecipata, alla cui fine è arrivata la Befana che ha distribuito calze a tutti i bambini. La stessa cosa poi si è verificata più tardi in piazza 20 Settembre, una piazza veramente gremita da tanta tanta gente, fin dalle 15 del pomeriggio. In attesa che arrivasse la Befana, anche qui ci sono verificati, ci sono stati trattenuti i bambini con tanti giochi, poi allo spettacolo del mago Zio Potter. Insomma ci sono state tante cose per trascorrere insieme con tutta la famiglia un bel pomeriggio in piazza 20 Settembre. Vediamo le altre notizie, andiamo a Fossombrone dove ci sono novità per quanto riguarda la viabilità, è stata istituita la circolazione a senso unico nelle vie Gramsci e Raffaello. Questo è un esperimento che durerà sei mesi contro gli intasamenti per le scuole e il mercato. Prevista anche una zona riservata esclusivamente ai pedoni nell'area in via dell'orologio Cittadella nei pressi del Civico 18 con esclusione di possibilità di sosta per ogni categoria dei veicoli, quindi sosta completamente vietata. E a Pergola hanno successo i bronzi, non solo i bronzi, ma anche la mostra di Pasolini. Golpe, io so, dedicata a Pierpaolo Pasolini nel Palazzo del Museo dei Bronzi, dove in questi giorni, ormai è uno scorcio delle feste natalizie, si sono visti anche turisti provenienti dall'America, pensate, dall'America per visitare i bronzi, che esercitano una forza d'attrazione unica in tutto il mondo come dello splendore dell'epoca romana. Un cuoco nascondeva la cocaina in casa ed è stato arrestato. Questa è un'operazione che è stata eseguita a San Costanzo. Spaccio, sequestro di persone e distorsione. Tre le ordinanze di custodia cautelare emessi dal Tribunale di Ancona per altrettanti soggetti. Sono tre soggetti che sono stati giudicati dal Tribunale. Nella perquisizione di un'abitazione di San Costanzo è spuntata la cocaina. I carabinieri hanno fatto luce su un giro di ascis, marijuana e cocaina diffuso tra Ancona e Fano. A chi non pagava la droga venivano applicati tassi di interesse molto alti per cui i clienti si ritrovavano a dover pagare somme ben più onerose rispetto a quanto inizialmente patuito. E in caso che non pagavano c'è stato anche un sequestro di persona con un giovane che è stato fatto salire forzatamente in macchina e con minacce. Un cliente poi si è ribellato e ha denunciato la situazione ai carabinieri. Giriamo la pagina, vediamo anche la pagina di Senigaglia. Ponte Garibaldi trovata la passerella. Vedete qui la passerella del Ponte Garibaldi in questa fotografia. Eccola qua. Il consorzio di bonifica farà sistemare quella del ponte. Angeli aggiungendo rampe per i disabili. E' stata trovata dunque la soluzione per la passerella provvisoria da affiancare a Ponte Garibaldi che deve essere oggetto di lavori. La Regione ha affidato al consorzio di bonifica l'incarico per progettare e adeguare quella già utilizzata per spostare le tubature dell'ex ponte 2 giugno, il gemello appunto del Garibaldi. Vediamo anche qualche notizia di Pesaro. Vediamo come, a parte il commiato per la morte di Gianluca Vialli, vediamo che ci sono anche due pagine dedicate dal Corriere Adriatico alla perdita di questo grande giocatore. L'abbraccio con Mancini, i ricordi made in Marche, lacrime per un signore, così viene definito appunto Gianluca Vialli. Dopo il trionfo agli europei 21, la foto diventa storica. Ecco la foto che diventa storica, ma è ancora più storica quella dell'abbraccio tra i due. Qui vediamo i due molto giovani quando giocavano con la maglia della Samp. Dopo il trionfo agli europei 21, la foto diventa storica. Da Mazzarano a Ripa, nessuno in campo come lui, come appunto questo giocatore. E poi qua il mio testimone Gianluca, l'orologio d'oro per regalo, il ricordo di un amico. Si tratta della Scolano Bocchino. Andai ad altare con lui accanto, ha dichiarato appunto questo nuovo testimone per la perdita di un grande giocatore. Ed ora parliamo anche del caro vita. Insomma, è una notizia che non ci abbandona mai, giorno dopo giorno. Purtroppo abbiamo a che fare con il problema di inquadrare il pranzo con la cena, molte persone. Dalla benzina ai treni, salasso per i pondolari, a reggere solo il bus. E coloro che devono percorrere delle lunghe distanze per andare al lavoro, per questo incide molto la spesa per il viaggio, per il trasporto. Gli aumenti per chi si sposta ne diamo un'occhiata. Il prezzo della benzina, quello del gasolio e del GPL, sono aumentate. Ci sono minime variazioni tra un distributore e l'altro. Uno o due centesimi, insomma, non è che si cambia di molto. Comunque la benzina è arrivata a 1.7 qualcosa. A 1,7 qualcosa. Questo è un po' quello che si è aumentato rispetto a 1,590 in cui costava la benzina prima che il governo togliesse l'aumento dei 18 centesimi. E secondo il Codacons, con due pieni al mese, si spenderà quasi 220 euro in più nel 2023. Perché si muove in treno, l'abbonamento della tratta regionale Pesaro-Ancona è aumentato del 10%, passando da 822 a 895 euro. Anche i pedaggi autostradali sono aumentati, aumenteranno ancora poi nel mese di luglio, sono aumentati del 2% dal primo di gennaio, a cui si aggiungerà un altro aumento dell'1,23% dal primo luglio. Insomma, non c'è che da stare allegri. E vediamo qui un fotosservizio per quanto riguarda un salvataggio. Un salvataggio che per fortuna si è concluso con esito positivo, ma ha attraversato delle fasi molto drammatiche. L'acqua fredda come una lama di coltello, ma per salvare la donna lo rifarei subito. Parla così l'imprenditore Tomassi Galanti, che ha soccorso ieri, insieme ad altri due, una sessantenne che stava annegando. Una donna stava annegando a largo della costa, di fronte alla palla di Pomodoro. Alle 9 di ieri, una soleggiata ma fredda giornata dell'Epifania. Non ci ho pensato un secondo, ha detto appunto Galanti. Ho saltato la balaustra, mi sono spagliato e gettato in acqua. Non è stato facile poi avvicinarsi alla donna che stava annegando e quindi avendo visto il salvatore tentava a lui di aggrapparsi, ma in realtà lui poi doveva nuotare per riportarla a riva. Quindi è riuscito però ad aggrapparla per un vestito, un vestito molto pesante, quindi che la trascinava anche a fondo. Alla fine è stato aiutato da altre due persone che hanno seguito il suo esempio e la donna è stata salvata. Il sindaco Ricci ha commentato per questo episodio un grande gesto di coraggio, vi dico grazie, ha detto il primo cittadino. Firme ed esposto contro il biolaboratorio, per fermarlo siamo pronti alle barricate. Si è tenuto una riunione con la partecipazione di un centinaio di residenti che protestano contro il laboratorio sperimentale che dovrebbe nascere a Torraccia, minacciando un esposto alla magistratura. Si tratta di un laboratorio di biosicurezza BSL3, ossia una struttura in grado di garantire sperimentazioni e manipolazioni in vivo e in vitro di agenti virali, quindi creduto dalla gente pericolose, nonostante le rassicurazioni dei tecnici. E non possiamo non parlare della Befana, non parlando di Urbania. In 20.000 per la Befana di Urbania, doni a tutti, anche i bimbi dei turisti. Tre giorni di spettacolo in strada, tra sogno e realtà, la presidente della Proloco, siamo stati ripagati dalle fatiche, ha detto. Ebbene, il fascino della Befana colpisce ancora grandi e piccini, oltre 20.000 persone, sono tantissime, hanno visitato Urbania. Nei tre giorni magici dei festeggiamenti, quando si parla di Befana, l'aggettivo magico non può essere inopportuno, insomma, si addice benissimo, trampoglieri, magiche bolle di sapone, clown, dame bianche, personaggi fantastici, hanno così proposto, soprattutto ai più piccoli, un viaggio tra reale e sogno, fatto di tanta energia e tanto divertimento. E vediamo qui anche un momento particolare dello svolazzare della Befana nel cielo oscuro della notte. Bello anche il presepe vivente di Piobbico, con 300 figuranti. Dalle dieci a sette si animano 30 quadri che ricostruiscono la vita ai tempi di Gesù. È una suggestiva rievocazione che coinvolgerà il centro storico, il burgo e il castello Brancaleoni della città dei Brutti. Una bella riproposizione che desta sempre emozione e tanta suggestione. Bene, a questo punto continuiamo un attimo la lettura del resto del Carlino. Abbiamo visto l'articolo che riguarda il nuovo monastero di Montegiove. Vediamo anche quello che riguarda la Befana. La nebbia non ferma la Befana ed è un pienone. C'era anche il Vuloni, ieri in piazza 20 settembre a Fano, assieme alla Vecchina, a distribuire gratis a tutti i bambini presenti 1200 calze ripiene di dolciumi. Pensate, una bella festa dei bambini. In questa occasione l'ente carnevalesca, che sta preparando il carnevale, ormai il carnevale è prossimo perché la prima sfilata si svolge il 5 febbraio, ha promosso il tesseramento e proprio nella giornata di ieri si è conclusa la fase in cui coloro che si sono tesserati parteciperanno a un concorso per l'attribuzione di una postazione di getto durante una sfilata. Ebbene, fare il getto è un'esperienza indimenticabile, molto emozionante, che chi l'ha provato, insomma, l'ha tenuta sempre nei suoi ricordi. E intanto nella Val Cesano si rinnova la tradizione degli alberi della vita per i nuovi nati. Una tradizione che viene da lontano, ha commentato Simona Guidarelli, sindaco di Pergola, di solito si è abituati a vedere dei fiocchi appesi alle porte, invece nella Val Cesano si erigono dei veri e propri alberi. alberi in questo modo per i maschietti con delle frasche rosa per le femminucce e sono gli alberi della vita, una tradizione che viene da lontano e che quindi viene perpetuata. La vasca di piazzale Amendola, manca solo la pioggia come teste. Dal primo di dicembre è attiva la vasca di piazzale Amendola. È una vasca di contenimento dell'acqua che si accumula su tutto il piazzale, in occasione di grandi temporali, che rendono anche inaccessibile il sottopasso di Viale Carducci, perché l'acquali non sfoga. L'amministrazione comunale ci ha messo due anni a dir la verità per realizzare questa cosa, ci sono accumulati diversi impedimenti, diversi ostacoli. Finalmente l'assessore Brunori è riuscita a completare questo intervento nel dicembre scorso ed ora si attende un temporale, un temporale che non viene da diverso tempo, per vedere se poi queste cose funzionano veramente, i tecnici sono sicuri di sì. L'acqua, la vasca, in camera l'acqua, che poi viene spinta attraverso delle pompe fino al canale Albani, ovvero al portocanale, attraverso via Spontini, che delimita la ferrovia. Fraterosa in Pol per il metodo Montessori. I primi istituti con questa metodologia di insegnamento nate nella provincia di Peso Rubino si preparano per ospitare l'Open Day. Attualmente sono circa 70 i bambini, studenti, che frequentano le scuole a metodo Montessori di Fraterosa. Una ventina la casa dei bambini, 52 la primaria e circa la metà di essi provengono da altri paesi e città, raggiungendo i due plessi scolastici grazie al trasporto scolastico messo a disposizione dal Comune. Ci sono bambini che giungono da San Lorenzo in campo, altri da terre roveresche, da Coglie al Metauro, a Sant'Ippolito, Fossombrone e persino da Fano. Pensate, fanno 70 chilometri per arrivare in queste scuole così speciali. Vediamo ancora la pagina di Urbino, dove si commemora Papa Ratzinger, che è stato sepolto proprio nella giornata di ieri nelle grotte vaticane. Papa Ratzinger era a Urbino un legame profondo, il pontefice teologo fu sempre presente nella vita dell'Arcidiocesi, grande la sua intesa con i prelati Francesco Marinelli e Giovanni Tani, ovvero i Vescovi di Urbino. Papa Ratzinger coltivava un sogno, quello di andare a vedere di persona una pala d'altare, quella del Corpus Domini, opera di Giusto di Gandhi, che è conservata a Palazzo Ducale. È Cristo che dà la comunione ai suoi apostoli. Ebbene, voleva andarlo a vedere, addirittura si era mosso, arrivando fino a Gubbio, poi la nebbia ha impedito che si arrivasse fino ad Urbino. E quindi questa visita purtroppo non c'è stata, ma è rimasta nel cuore di Papa Ratzinger, che ne ha parlato quando Monsignor Marinelli è venuto a trovarlo. Nuova area per campere a Monte Grimano Terme, prosegue il progetto del GAL Montefeltro per rafforzare i servizi turistici, e ovviamente il plein air è sempre una forma di turismo molto molto coltivata. E poi anche qui vediamo che la Befana è in grandissima forma ad Urbania. Migliaia di persone per la tradizionale festa nazionale della Vecchina, oltre 400 anche qui i camper. Mentre Piobbico mette in scena il suo presepe vivente, c'è molta attesa per questa ventiseesima edizione, che si terrà oggi a partire dalle ore 17. Era nata nel 1990. La manifestazione poi ha preso l'avvio a seguito di una ricerca che è stata portata avanti dai professori e dagli studenti della scuola media. E sono stati proprio i ragazzi a dare impulso a questo evento. Borgopace. Gli alunni dell'elementare incontrano i poeti. Nei giorni scorsi la scuola primaria di Borgopace ha organizzato un incontro aperto alla cittadinanza tra gli alunni di tutte le classi e alcuni poeti locali, come Stefano Gentili, Deanna Spezzi, Gastone Capelloni e Loris Ferri. L'evento è stato veramente emozionante, sottolineano i genitori degli studenti, tra cui Chiara Martinelli, volto ad avvicinare i bambini alla poesia, e alla scrittura e all'ascolto della propria interiorità. Giriamo anche la pagina di Pesaro sul resto del Carlino. Siamo ormai in conclusione, ma volevo segnalarvi come il vice sindaco Vimini tiri fuori il vecchio Palace dal Pantano, questa vecchia costruzione che è in fase di riammodernamento per ospitare poi il ROF Sport e Convegni, una grande sala teatrale. Il vice sindaco gioca d'azzardo sul completamento del progetto più complicato di tutti. Dobbiamo correre, ha detto Vimini, per farcela. La mancata apertura ha agevolato Rimini e Ancona. La città ha assolutamente bisogno di un impianto come questo, soprattutto nel momento in cui diventa capitale della cultura per il 2024. Scuola Dante Alighieri, cercasi direttore dei lavori, procedura di gara d'appalto pubblicata anche per l'incarico professionale. Era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 per la rassegna stampa del mattino. Questo per il momento è tutto, a risentirci. Grazie a tutti.